Musica Buonasera, ben trovati con l'appuntamento con l'informazione di Telefriuli. Apriamo il nostro telegiornale con la cronaca perché a causa del violentissimo nubifraggio che si sta abbattendo sulla nostra regione, diverse persone sono rimaste imprigionate all'interno di alcune tende a Malga Chiampis tra Pordenone e Udina a causa della caduta di alcuni alberi circostanti e c'è anche una notizia dell'ultimo minuto perché si teme che una di loro possa essere deceduta. Sono oltre 3.000 gli accampamenti in occasione dell'iniziativa Famiglia Arcobaleno e ora diversi equipaggiamenti dei vigili del fuoco del comando provinciale di Pordenone e dei distaccamenti di Maniago e Spilimbergo si stanno portando a tramonti di sopra, località più vicina al luogo dove un albero avrebbe centrato le tende. In zona sono state fatte affluire anche alcune ambulanze del 118 in attesa di conoscere le condizioni di tutti i partecipanti al raduno e l'elicottero proprio in questo momento sta perlustrando la zona per capire la presenza delle persone all'interno delle tende, anche le comunicazioni però risultano essere difficoltose non c'è copertura telefonica ed esiste un'unica utenza satellitare che sta tenendo i collegamenti con la centrale operativa del 112. Sul posto ora è atterrato l'elicottero del 118 mentre i tecnici del soccorso alpino di Maniago sono pronti a partire a piedi pensate perché la località dista almeno due ore di cammino dal luogo più vicino dove si possano lasciare le vetture dei soccorritori. Ed è stata invece piantonata in stato di fermo con l'accusa di tentato omicidio nel reparto di psichiatria dell'ospedale di Udine la donna di 38 anni che ieri mattina ha ferito il compagno con quattro coltellate alla schiena a Mortegliano. La donna è in completo stato di shock e non è stato possibile ancora procedere al suo interrogatorio. Il PM di turno Andrea Gondolo ha ascoltato invece l'uomo, 43 anni, vigile del fuoco al comando di Udine che ha ricoverato in prognosi riservata in terapia intensiva ma in stato di coscienza. L'uomo ha riferito di una banale discussione avvenuta la sera precedente con la compagna ma già chiusa. Ha spiegato di essersi alzato intorno alle 5.30 per andare al lavoro e di aver visto anche la donna svegliarsi suggerendole di tornare a dormire. Pochi minuti dopo però la moglie sarebbe tornata colpendolo ripetutamente alla schiena. Un gesto inspiegabile e senza segni per monitori ha spiegato il procuratore capo di Udine Antonio De Niccolo mentre la procura ha già avviato gli accertamenti cominciando a sentire i primi testimoni. Un incidente mortale invece. Ieri sera a San Vito al Tagliamento in via Treviso ex strada provinciale 1 della Val d'Arzino. Un ragazzo di 17 anni di origine venezuelane residente a Casarsa della Delizia ha perso la vita. Il giovane si trovava in sella alla sua moto quando ha urtato una vettura che sopraggiungeva in direzione opposta e alla cui guida c'era un 52enne sanvitese. Il giovane poi ha ruzzolato sull'asfalto per diversi metri. Le sue condizioni sono apparse da subito disperate. È lì trasportato a Udine con gravissime lesioni craniche e toraciche. Il ragazzo è deceduto dopo essere stato più volte sottoposto a rianimazione illeso. Invece il conducente dell'altro veicolo è rimasto coinvolto nel sinistro. Stando a una prima ricostruzione della polizia locale di San Vito che sta eseguendo i rilievi la moto affrontando la curva avrebbe cominciato a piegarsi sul lato sinistro verso la corsia di marcia opposta. Sull'asfalto infatti sono stati ritrovati segni profondi di pneumatici e cavalletto. La moto avrebbe poi impattato contro la parte anteriore destra della vettura in particolare contro lo pneumatico. Un'anziana donna di Trieste di 79 anni invece è morta stamani per un malore probabilmente per le alte temperature mentre si trovava al bagno Pedoncini, il famoso stabilimento triestino diviso tra donne e uomini. L'episodio è avvenuto stamani intorno alle 10.30. La donna è stata vista riversa in acqua da un altro bagnante che ha avvertito immediatamente il bagnino e nonostante l'intervento di soccorso e tentativi di rianimazione da parte degli operatori del 118. La donna è deceduta in seguito ad un arresto cardiocircolatorio e il medico negale ne ha constatato la morte. La vita è un regalo da condividere, da salvaguardare e scartare piano con la condivisione degli intenti e la libertà reciproca. E queste sono le parole che si leggono in una lettera aperta alla stampa di Andrea Orlando, padre di Nadia Orlando, la giovane di Vidulis di Dignano uccisa dal fidanzato durante una lite. In questo paesino di campagna dove tutti si conoscono, gli anziani evitano di cogliere i fiori di campo perché sanno che una volta recisi non avranno una lunga vita. Comincia così la lettera di Andrea Orlando dedicata alla figlia, il suo fiore Nadia, la giovane di Vidulis di Dignano uccisa dal fidanzato durante una lite. Un fiore raro da ammirare senza recidere per poterne conservare la spontaneità e ammirarne lo splendore. Parole di dolore che escono dal cuore di un padre che, come si legge nella lettera aperta inviata alla stampa locale, sottolineano che quanto è successo non debba restare cosa quotidiana in un mondo di uomini maschi, scrive in minuscolo, che vedono allegria, cordialità, indistintamente e con tutti come un modo per alimentare inutili gelosie. Una ragazza buona, dal grande cuore, Nadia, strappata troppo presto dalla sua giovane vita. Una vita che, come scrive Andrea Orlando, è un regalo da confezionare, salvaguardare e scartare piano con la libertà reciproca e condivisione di intenti. Questo è amore, è famiglia, è vita. Infine il saluto di un padre e la sua bambina. Ti vogliamo bene, un bacio per essere stata membro di questa famiglia. E lo abbiamo detto in apertura del nostro telegiornale. Come annunciato dall'allerta diramata dalla protezione civile, è arrivata sulla nostra regione la perturbazione che ha portato con sai forti temporali e precipitazioni che hanno portato nella giornata di oggi un sensibile calo delle temperature. Almeno per questa domenica dunque si tornerà a respirare, dimenticando l'ondata di caldo sariano portata da Lucifero e che ha fatto entrare Udine e Aviano nella lista delle 26 città più calde d'Italia, con punte di quasi 46 gradi. Oggi si prosegue con la conta dei danni del temporale. La perturbazione sta già attraversando i cieli della nostra regione, l'abbiamo detto, portando piogge temporali, grandine e soprattutto forti raffiche di vento. Il tutto dovrebbe esaurirsi nella giornata di domani quando è previsto di nuovo il bel tempo. E al via la prossima settimana la raccolta delle uve da spumante come la ribolla gialla e il pinot nero. Per la vendemmia delle altre varietà invece bisognerà aspettare ancora un mese. Vediamo il servizio. Noi da 5-6 anni produciamo dello spumante, del metodo classico, dello champenoise e quindi la raccolta è un po' anticipata rispetto alla normale. Noi cominceremo fra una settimana, 10 giorni al massimo con la raccolta del pinot nero in collina per la prima spumatizzazione. Invece per il friulano, che sono i nostri vitigni tradizionali, si prevede verso 5-10 di settembre. Poi la temperatura alta di questi giorni chiaramente blocca la vegetazione e quindi non è facile fare delle previsioni molto attendibili e quindi presso a poco si andrà fra un mese a raccogliere i primi friulani in collina. In questo momento poi l'annata è stata caratterizzata da caldi abbastanza importanti, però in queste zone abbiamo avuto sufficiente acqua quindi non abbiamo sofferto assolutamente né il secco come si è verificato magari in altre zone. Per quanto riguarda la vendemmia, siamo nei tempi normali, dai dati che il nostro consorzio sta raccogliendo. È una vendemmia che si paragonabili a quella del 2011, quando si è cominciato a vendemmiare a fine agosto e primi di settembre per i vini tranquilli. L'assessore regionale Cristiano Schauri ha fatto tappa a Sauris dove l'imprenditoria locale ha saputo utilizzare le risorse e anche quelle pubbliche per creare un modello di integrazione che mette assieme l'identificazione delle tipicità locali, la bellezza del territorio e le possibilità turistiche. A Sauris si è trovata la formula vincente, un modello quasi, per quella che può essere una tipica offerta turistica del Friuli Venezia Giulia. Sì, soprattutto la capacità di mettere vicino l'offerta turistica, la valorizzazione dei prodotti del territorio e anche una fortissima identificazione fra questi prodotti e la bellezza del territorio stesso. Quindi questo è secondo me una ricetta che potrebbe e dovrebbe essere un esempio per l'intera regione Friuli Venezia Giulia. Indubbiamente ci sono stati anche gli interventi delle istituzioni, i supporti pubblici, ma come sempre i supporti pubblici devono essere utilizzati bene. Qui vediamo a Sauris la capacità da un lato di lavorare a rete, che non è così banale. Vediamo imprenditori che collaborano fra di loro, hanno sostanzialmente un profondo amore per il loro territorio e anche una visione di prospettiva e di sviluppo di quest'area. Torna centrale anche il tema della tutela della qualità dell'agroalimentare. Assolutamente sì, la tutela ovviamente non può essere solo una parte burocratica, la tutela è anche una scelta culturale, ovvero valorizzare i propri prodotti proprio perché vengono fortemente identificati con il territorio. E siamo alla pagina sportiva perché è Igor Zanetti, il vincitore della 44esima edizione del Giro Ciclistico Internazionale del Friuli Venezia Giulia. Un bis sofferto, ha affermato, ma dal grande risultato. Parla anche il patron della manifestazione, Nevio Cipriani. Forni di sopra è la location d'eccellenza di questo Giro ricco di emozioni e di professionisti. Igor Zanetti dello Scotter Racing Team è il vincitore della 44esima edizione del Giro Ciclistico Internazionale del Friuli Venezia Giulia. Un bis mai forse così sofferto? Beh, quest'anno è stato parecchio sofferto, la gamba non era diciamo delle migliori all'inizio, invece oggi ha risposto bene, quindi sono contentissimo. Siamo arrivati fino alla fine per dover chiuderlo in bellezza. Comunque sono contento, dai, aver vinto la tappa e anche il giro è molto bene. Allora è stato davvero bello lo spettacolo offerto da te e da Mattei Lozzi. Sì, diciamo sulla prima salita ho attaccato subito per evitare il contrattacco dei TUS perché comunque sono sempre in cinque e potevano creare, diciamo, disagio. Quindi ho attaccato subito, sono rimasto con Mattei, dopo siamo andati, diciamo, di comune accordo quando ho visto che avevo un qualcosa in più. E siamo arrivati, diciamo, qua all'arrivo e è andata meglio a me, insomma. Forni di sopra è stato il parterre del Rua per l'arrivo del Giro ciclistico internazionale del Friuli Venezia Giulia. Stiamo tirando una riga il resoconto di Nevio Cipriani, patron del Giro, 44 edizioni. Ti pesano Nevio a 45 esi o ormai è già in aeree. Non voglio risponderti male. Purtroppo gli anni vanno su e ogni anno mi pesa sempre di più, ma io continuerò perché siete voi che mi date la forza di andare avanti, la volontà di farlo. L'anno prossimo sarà la 45esima edizione e voglio sperare solo una cosa, che la gente che è in Giro per l'Italia capisca la verità di questo Giro qua, comincia a ragionare, non dire là così, qua è un vero Giro del Friuli, è uguale a una cassa a tappe che fanno i direttanti e i professionisti, è uguale, non è niente di contrario. Forse come non mai il Giro del Friuli per un amatore è la gara che si avvicina di più al professionismo e va provato almeno una volta nella vita. Quello che voglio dire io, inoltre che dicono qua vengono i corridori più forti, noi abbiamo la possibilità di garezzare, ma chi ha detto queste cose qua? Quando vengono a Giro d'Italia, un Contador, un Nibali, queste sono loro che vincono, partecipano tutti per partecipare a un Giro, per dare onore e onore proprio e onore a chi organizza. E parliamo ancora di ciclismo, perché si è svolto nella giornata di ieri il Gran Premio Ufficine Danieli per la Due Giorni di Buttreo, il Giro ciclistico che vede ogni anno partecipazioni di squadre da tutta Europa e al quale segue il Memorial dedicato a Roberto Toffoletti, in particolare nella giornata di ieri sono approdati a Buttreo team dall'Ungheria, dalla Croazia, dalla Russia e dalla Slovenia. Il tour di questa edizione 2017 che ha visto la partecipazione di 140 corridori è stato particolarmente impegnativo per gli atleti che hanno dovuto affrontare dallo start alle ore 14 le tappe delle colline di Cormons, le salite di Ruttars fino a Corno di Rosazzo, tra scatti e caldo affoso. Sono poi ridiscesi attraversando il ponte sul Natisone di Orsaria, rientrando a Buttreo con una serie di anelli ripetuti tra Manzano e la collina di Monte Cristo per terminare la corsa lì, dove era partita davanti alle Ufficine Danieli. Quasi metà della gara è stata assegnata dalla fuga di sei corridori, dal quale poi negli ultimi chilometri si è staccato il vincitore Cepa Mosut, corridore di origini albanesi per la squadra toscana dell'Unikesh. Secondo posto sul podio invece per Mattia Casolaro del Fontana Fredda e terzo per Gioele Polano della Sacilese. Vincitore dei traguardi volanti e del Gran Premio della Montagna invece è Enrico Franceschino proprio del team Danieli. Durante la serata la presentazione delle squadre alla presenza del commissario tecnico della Nazionale Rino De Candido che ha visionato la gara al fine di selezionare i migliori corridori per la squadra che parteciperà ai mondiali. Oggi invece la gara per il quinto memorial dedicato a Roberto Toffoletti è stata sospesa al 92esimo chilometro a causa del maltempo. Ed è tutto per questa edizione del nostro telegiornale. Io vi ricordo l'appuntamento con l'informazione di Telefriuli, ritorna domani alle ore 13. Io vi ringrazio per averci seguiti e vi auguro un buon proseguimento di serata. Grazie a tutti.